GF VIP, Davide esagera con Oriana e web esplode, va squalificato, vergognoso, video. Davide Donadei esagera contro Oriana all'interno della casa del grande fratello VIP e scoppia la polemica tra i fan social delle reality show. Nel corso delle ultime ore, l'extronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una battuta decisamente di cattivo gusto nei confronti della concorrente spagnola. Tale da spingere i numerosi spettatori sociali delle reality show a chiedere provvedimenti. In tanti, infatti, hanno chiesto ad Alfonso Signorini e Giulia Salemi di non tacere su questo episodio e addirittura di procedere con la squalifica di Davide dal cast delle reality show Mediaset. Nel dettaglio, l'appuntamento con il grande fratello VIP7 continua a riservare colpi di scena in queste ultime ore nell'occhio del ciclone finito il comportamento di Davide Donadei. Reo di aver esagerato nei confronti di Oriana. Tra i due geffini non corre affatto buon sangue e, in diverse occasioni, si sono punzecchiati lanciandosi delle frecciatine al vetriolo che non sono passate inosservate. Come quando Davide ha detto di Oriana che era il male. Secondo i fan social delle reality show, tutto sarebbe nato dal fatto che Oriana avrebbe rifiutato Davide. Nonostante in un primo momento il concorrente avesse ammesso di essere interessato alla concorrente spagnola. Sta di fatto che, in queste ultime ore, l'extronista di Uomini e Donne si è reso protagonista di una battuta decisamente spiacevole nei confronti di Oriana. Che ha alimentato un polverone tra i fan social del GF VIP. Oriana si trovava in salotto e stava giocando con Luca Onestini, quando ad un certo punto è esclamato la frase, non respiro. Davide Donadei, sentendo le parole della concorrente spagnola, ha risposto esclamando, magari. Quella che voleva essere una sorta di battuta dell'extronista di Uomini e Donne. Ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e in tanti stanno chiedendo alla produzione di prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo. E da squalifica, non merita altro, ha scritto un utente dopo la battuta di cattivo gusto di Davide nei confronti della concorrente spagnola. Amatissima dai fan social di questa settima edizione del GF VIP. Questa cosa non può passare inosservata, e vergognosa. Davide squalificato. Ha scritto ancora qualcun altro chiedendo alla produzione di intervenire subito. Mandatelo via subito, ha detto una cosa orrenda. È inaccettabile e vergognoso. Ha scritto ancora un altro commentatore delle reality show che spera nella squalifica dal cast dell'extronista. Grazie a tutti. Grazie a tutti.